Entro in teatro alle 7, 7 e mezza quando è l'ora di prepararsi, ho studiato, abbiamo provato un sacco, ho tutta la sensazione di essere molto pronto. Vado in camerino e trovo un costume assurdo, sento le presenze di tutti gli attori, i camerini fanno rumore, poi arriva il direttore di scena che è l'unica persona che io vedo, è una persona che io non conosco. Prendo la quinta, sento il rumore del sipario, vado sul palcoscenico e il teatro non c'è, c'è l'esterno e mi ritrovo lì e non so che cosa fare, vestito come un idiota, come se io fossi uscito dalla porta per andare fuori nel mondo.